Il cambio di modulo ovviamente l'ho sempre fatto perché il gioco più avanzato, quello è il mio ruolo naturale, però sto entrando in condizione, non sono ancora al top perché mi manca ancora la gamba sul lungo, piano piano con i minuti che il mister mi sta dando la fiducia riesco ad entrare in condizione. Il cambio è che gioco 20-30 metri più avanti e ritorno al centro campo, invece il 4-1 è più sacrificato per me che devo ritornare fino in difesa, però anche la condizione non era brillante neanche oggi. Sì, però piano piano con gli allenamenti e con le partite riesco ad entrare al 100%. Sono felice, è un boato qui quando segni, poi io sono venuto qua, lo so anche il presidente perché mi piace, mi sento giocatore quando stanno queste piazze così, potevo andare altre molte piazze però ho deciso di venire qua perché per primo per la piazza, per i diffusi e poi per il presidente che ha una grande stima in me, spero di ripagargliela. Venivamo da due sconfitte, avevamo perso un po' di certezze, questa vittoria ci dà un po' di morale in più per fare meglio la prossima partita che partita dopo partita dobbiamo sempre migliorare. Lo so, ma i nomi parla sempre il campo, i nomi non contano, anche la Juve, una delle squadre più forti dalle Serie A, però anche loro stanno facendo fatica. Noi sulla carta siamo forti, però lo dimostreremo perché da oggi inizia il nostro campionato. Grazie. 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 Grazie.